Buongiorno, 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 provate a fare osservazione. Le chiasi che sono attorno a place del nostro paese troppi non sono uedis. Provate alla sera in place, dunviare e anche d'estate, vedete troppi in che è. Provate alla di di per strade dal paese e vedete troppi di loro che non si conoscono. Che, per conoscere, togliela dal cimitero. E siamo propiti di vivere la morire del nostro paese. Abbiamo detto che dal 2070 i furlans furlans che in Friul saranno cinque mila in stas di lavoro e di fafis dal 2070. O stiamo vivendo questo tempo. Non c'è Dio. Però, attenzione, la storia non è solo il presente che è continuo e sempre compagno. No. È sempre sorpresi. E in più, avete sotto mani la nostra storia personale che è della nostra famiglia che è del nostro paese. Buone giornate e buone vite. Grazie. Muzie. Seguimaldi.